La Copra Trevalli Quest'anno festeggia il sessantesimo Trevalli di Marchio Marchigiano Marchio che è nato 60 anni fa e potuto continuare con esperienza cooperativa da oltre 40 anni Un'azienda che si basa sul territorio, che vive sul territorio, del territorio marchigiano e ha un collegamento con le aziende di base, le cooperative e i produttori con cui raccoglie latte È un'azienda anche a livello nazionale perché commercializza il latte in tutta Italia e commercializza anche prodotti innovativi e particolari nel mondo